DEN, DU BIT, WAS, TU IST, UNT, IR WINS, WAS, ES IS, ES IS, MAIN TEAIL, NO, MAIN TEAIL Hola compagniero, scusi Team Lemon e sto morendo, cazzo, ma non posso stare un po' tranquillo, voglia Chi è l'altro, frocio, vieni qua, vieni qua, che adesso ti do una spallata atomica, wuuu Olè, boia, sempre a rompere il, er cazzo, comunque, si lo so che ho anche la pistolina, però questo mi piace di più Chi è? No, uff Ok, basta cazzeggiare, andiamo in giro, andiamo qui a chiedere a questo tipo che cosa vuole Ah, intanto che stavo guardando un po' nel menu, ho trovato sta roba Competitive, che cazzo è? Basta! Dio, che cazzo? Ma allora mi fate giocare in faccia come ti sento uccidermi, porca miseria Dove sei? Ma cazzo, ma ne aumentano Ma spawnano, in continuation Non posso stare un po' tranquillo, no Va bene, ok, facciamo sta cazzo di missione e ve lo chiedo dopo che cos'è quella roba Complete training with ego, ok Intanto, se mi dici dove devo andare, non ho problemi Perfetto, non mi dici ego Cazzo, devo fare Premi uno per user ego power Non mi dici Lol Figata, posso diventare anche invisibile, yes Basta, stai vinto, fammi capire cosa devo fare Cosa devo fare? Wow Capito? Ah, ok L'ho, sto scappando C'è tutti col pulsante uno Blur will allow us to move at extreme speeds and increase his melee strength during close combat With blur active, rush the projections and strike them with melee attacks No Che cazzo Che cazzo è successo? Sì, ho capito, ho capito K2 Ma che pare, ma non si può giocare qui un attimo Ho capito, stai fermo, vai via Va bene Sbloccono, sì Ma porca troia Oh, mi stai cazzando sto gioco, non posso star fermo Due minuti Poi Senta, andiamo da questa qua, cazzo Sta fermo, non l'attaccano Sta fermo Che cazzo fai? Oh, adesso posso vedere un attimo che cazzo devo fare? Allora Cos'è sta roba? Ego power That's it, oh, a mirror in mezzo Ok, va bene Questo Non si sblocca Guarda, queste qui sono tutti i potenziamenti Puttana vacca Ok, allora E ragazzi, voglio sapere No, gear Ho capito Non voglio sapere che cazzo è questo Cos'è? Eichelon Freelancer Ok, ho capito Ma Vabbè, basta, senti Ma come funziona? Ma Questo è figo Ho capito Ma Per il resto Come funziona? È uguale Non cambiamo cazzo Vabbè Vabbè Quindi questo non lo posso settare No Coop Competitive Ah, forse Non capisco Un tutorial un po' migliore Magari sarebbe Potuto servire Ma Magari sono io Che non sono stato attento Perché sono un idiota Lo so Allora qua C'è qualcuno che ha bisogno Del mio aiuto Vediamo subito Sta Power C'è Però siete so stupidi Io capisco che c'è un'immagine Che mi fa una esca Però Quando vedete Il vero Corpo Che vi viene addosso In qualche modo Dovete La CTRL Che cazzo è Nearby Rame Non ho capito Chi è che spara adesso? Ah si congi granate Qua apriamo Va bene Va bene Va bene Ho capito Anche per fare le capriole Ho visto Sei bravo Complimenti Prendiamoci un po' di ar Diamo Buona Dio Ma io posso giocare tranquillamente Un attimo Devo solo Basta No i nemici Spawnono in continuazione Ho capito Puoi tornare No Chi è quello? Che cazzo è? Ma non c'è La mia persona Va bene Che cazzo fai? Allora Allora Ho capito che Insomma I nemici Spawnono Così Tanto Allora Lì c'è il mio obiettivo Ok Va bene Io non ho problemi Quando i nemici Spawnono Però almeno Mi avvertite E poi non capisco Cos'è quel 10 Vicino al mio nome Caita Ok Non è un problema Non è un problema Facciamo Rabbo Oh Ancora Ancora Allora Allora Stai ferma lì Che io prendo questo Eh cazzo Dove proteggerlo? Va bene Va bene Va bene Viengola subito Devo lanciare una granata Così Si si Non è un problema E fin dato che sono questi Facciamo un problema Non è difficile Uccidere Certo Magari sfucciamo arma Se no Dai fermo te Dai fermo Oh io ho dato un calcio Tranqui Certo che siete proprio Irritanti eh Ma Dai fermo Sì In effetti Questi nemici Non capiscono un cazzo Perché vanno sempre qua D'attentore Ok Viamo Stanza finta Ma lasciamo perdere Non sono qui per dire Per mettere il Per trovare il pelo Nell'uovo Oh c'è il quad Si che ce l'ho Grazie Grazie Ma anche no Io ho lavorato solo Però se mi dai questo quad Mi ho lavorato Ecco Niente di questo gioco Non riesco a comprenderlo Piano piano Forse Ok Oh E come faccio Per l'upgrade Ho capito Allora questo cos'è You take less damage Reviving all the player Beh però On a kill You take less damage 40 seconds If your shell is rechaging You download faster Wow Io prendo questo Yes Perfetto Ok Allora Navigate Allora Naviga attraverso Blablabla Il new freedom Crash Crash and locate Calvon Bach Oh mi danno una pistola nuova Perfetto Sai che cazzo sei Ciao Ciao Sì ma cazzo Io interagisco Non vuole nessuno Allora Aspettate un attimo Che Mi scrivo Allora Su chat window Hello Io non posso Mandare contro di te qualcosa Non so Che posso scrivere C'è un Area chat Mi hai fatto scrivere U No A lui Y No I No ho capito C'è U e I Non capisco 300 cose Si aprono M M è la mappa Sì quello me lo dovevo ricordare Porca troia T Tol Tol No vabbè Vai a fare in culo Un altro Nikator Aspettami Nikator Oh mi dà il punto di esperienza Finalmente Vabbè Amattatelo te Chi è Cos'ha lasciata Lì Solti Ok Ma fa cura A me va bene così Io prendo le robe 20 Perché sono 20 Ok Devo cercare Oh Oh Chain kill Perfetto Soldi Soldoni sonanti Allora Non capisco Un cappero Che livello Sono Forse Forse Che livello Si capisce Da Season 1 Oh mio dio Cos'è sta roba Pottana Cop Vabbè Vabbè Teranna Si Titolo No titolo Non mi dice Niente Ok Ego rating 20 Non capisco Oh Sfigati Sfigati Proprio Proprio Tateferum Va bene Io poi sono bravissimo A colpirli Però Non so Tre punti esperienza Non lo so Di qua dove si va Va bene Io vado a fare la missione Non capisco Devo cercarmi una guida online Qualcosa Video Adesso È proprio spuro Ciao Ida Quale era la mia nave Oh Caricamento Super veloce Io se salto da qua Moio Boh Proviamo No Buono Perfetto Quanto siamo 13 minuti Dai Un pochino Eh Ma siete più forti Siete Lo fa al culo Usiamo la La mia Power kill Perfetto Uno Più Uno Investigate First GPS Ok vabbè Poche parole Può andare ovunque Ovunque nel mondo Va bene Opla E la 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 Sexy lady E vabbè però Tu il brinculo Ti fate andate New freedom Crash site Ok Questo cos'è Boh Non lo so C'è qualcuno Che spara Qui siete morti Non siete vivi Ma chi spara Oh Vabbè Adesso non andiamo Qua c'è qualcosa Alt republic Perfetto Perfetto Cosa c'è Ah Amo Perfetto Junko car Junko car Sì vabbè Sì vabbè Va bene Va bene Nessuno mi vuole rispondere Va bene No non è un problema Per me se non mi rispondete Però Porca miseria Mi sento tanto solo ragazzi Se c'è qualcuno Che a questo gioco Mi dica qualcosa Perfetto Scudbug Questo non è Non è va bene Non è una tragedia Mi estimando che il count di morte Per almeno 300 Per ordine Lasciatemi in pace Io sto facendo delle ricerche Grazie Non mi attaccate Intanto sarà l'ultimo Vambach Lo so L'altro messaggio Anzi Secondo me Non sarà nessuno di questi Dal culo che ho Vambach Vambach Visto Che strano Non è nessuno di questi Sano Quindi dove devo andare adesso Ma questi non mi danno punti Sì 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 All'unarm All'unarm And inter Survivors Sì 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 Come me Aspetta La posso rubare Questa Prenderela No No Che cazzo Sì Va bene Va bene Va bene Me lo faccia sapere Ci si incontra Da qualche parte Mi dica qualcosa Che io non sto capendo Un emerito Cazzo Proprio Bene ragazzi Adesso vi saluto Che vado a fare le mie cose Ciao ciao Ciao